Grido d'allarme dei panificatori di CNA Toscana Centro per i rincari di costi di gestione, materie prime, consumi energetici e trasporti. A penalizzare artigiani e consumatori è soprattutto la strutturale dipendenza dell'Italia dalle forniture estere di grano duro, tenero, mais. Con un tasso di autoapprovvigionamento su base nazionale pari a circa il 60% per il grano duro, 35% per il tenero e 53% per il mais. Circostanza che espone particolarmente l'Italia alle turbulenze dei mercati internazionali. È da novembre che praticamente il costo della farina sta aumentando in maniera molto esponenziale. Siamo andati quasi per alcuni tipi di farine quasi al 50% della base di partenza d'aumento fino ad arrivare anche a un 80% rispetto a quelli che erano i prezzi in vigore l'anno scorso di maggio. Il tutto è partito a novembre, sta continuando ad aumentare, non si vede la fine di questo aumento, per ora non ci viene dato un termine di scadenza per capire quando il mercato si fermerà e comincerà, speriamo anche, a ridiscendere. L'aumento dei costi di produzione ha già conseguenze sul mondo della trasformazione e a cascata potrebbe presto ricadere sui consumatori. Dopo l'aumento del 10% del costo della pasta avvenuto già alla fine del 2021, si potrebbe registrare, avvisa infatti CNA, un ulteriore rincaro del 10% nelle prossime settimane. Questi aumenti esponenziali, prima della farina, poi dell'olio, di tutto ciò che fa parte del prodotto finito, stanno incidendo molto sul prezzo finale. Non ultimo il costo elevato del carburante, perché il pane o i dolci una volta fatti vanno anche distribuiti e consegnati e il tutto ci ha costretto ad aumentare il prezzo di quelli che sono i nostri prodotti, dai dolci, le pioche, il cornetto, il pane, il panino, la schiacciata e questo ovviamente incide sulle tasche del consumatore finale in maniera non indifferente. Grazie.